Dottoressa Chiara Rivetti, segretario della NAO Assomet Piemonte. ANAO è in trincea per la difesa del Servizio Sanitario Nazionale. Perché? E cosa occorre fare per salvare, provare a salvare? Forse queste sono le ultime possibilità di farlo. Dunque, siamo in trincea perché negli ultimi anni sono stati tagliati in Piemonte 1.500 posti letto, mancano circa 1.000 medici ospedalieri e il rischio è che attualmente per avere una adeguata cura il paziente debba rivolgersi al privato e quindi pagare di tasca propria le prestazioni sanitarie. Questo significa che le diseguaglianze in salute stanno progressivamente aumentando, che chi non ha soldi non riesce a curarsi e chi non ha soldi deve per forza abbandonare le cure. Credo che l'unica possibilità che abbiamo è unirci. Unire tutti i sindacati, unirci con la popolazione, con i pazienti e chiedere tutti a gran voce un investimento nella sanità pubblica perché venga in qualche modo garantito il diritto, peraltro previsto dalla Costituzione, alla cura gratuite per tutti. Grazie dottoressa. Grazie. Grazie. Grazie.